Siamo allo sport calcio, toto allenatore per quanto riguarda naturalmente il Pescara, il DS Biancazzurro Daniele Delicarri ha contattato ufficialmente Attilio Tesseri, ecco qui la notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito www.repteotto.it Attilio Tesseri che ha dato la sua disponibilità ad incontrare il club Biancazzurro, probabile vertice tra lunedì e martedì, 66 anni, il prossimo 10 giugno il tecnico di Montebelluna è legato alla Triestina da un altro anno di contratto in Serie C, Tesseri ha vinto tanto, ben 4 promozioni in via, la guida di Novara 2009-10, Cremonese 2016-17, Pordenone 2018-19, Modena 2021-22, con gli Emiliani anche il record di 14 successi consecutivi tra ottobre e ottobre. 2021-21 e gennaio 2022, storica la bicentrata col Pordenone nel 2019, sfiorando l'anno successivo la promozione in Serie A, in carriera anche una promozione, il massimo campionato col Novara nel 2010-11, una vera impresa dopo la vittoria con i piemontesi del campionato di Serie C nella stagione precedente. In B, Tesser ha allenato Triestina, Mantua, Novara, Ternana, Avellino, Cremonese, Pordenone e Modena, in A, fugaci esperienze alla guida del Cagliari, una sola partita e dell'Ascoli, 11 gare. Nella stagione appena terminata è stato esonerato dalla Triestina dopo 24 giornate, in quel momento i giuliani erano terzi in classifica. Negli ultimi anni il tecnico Veneto ha utilizzato soprattutto il 4312.